Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Oggi parleremo di una oia, una oia imbricata, una pianta di clima tropicale, una pianta che vive in zone umide tropicali e calde, una pianta di difficile coltivazione. Questo sarà per me un esperimento, ma lo vediamo insieme in questo video, dedicato all'oia imbricata. Finalmente riesco a parlare della oia imbricata, arrivata circa un mese fa a casa mia dopo un acquisto online, la cercavo da tantissimo tempo, tantissimi anni, finalmente sono riuscito a trovarla. È arrivata a casa mia in un vasetto anonimo con questo gancetto per poterla appendere, con i suoi fusti che scendevano in giù, con le sue foglie che si sono accartocciate perché non trovando nessun supporto per potersi arrampicare le foglie si accartocciano e quindi con questo aspetto un po' da classica pianta d'appartamento. Ma la oia imbricata in realtà è una pianta molto particolare, una pianta affascinante perché lei vive in simbiosi con le formiche nei suoi luoghi d'origine, lei si arrampica sui tronchi degli alberi, crea delle foglie che non sono con questa forma perché queste sono accartocciate su se stesse, crea delle foglie, vedete qui, se io apro, di forma circolare, aperta, che si attacca al supporto arrampicandosi e al di sotto delle loro, delle sue foglie, le formiche creano delle piccole colonie portando anche il nutrimento alla pianta, quindi è una pianta simbiotica con le formiche in natura. Oia imbricata, appunto come ho detto arriva dalle Filippine, da Sulawesi, posti molto caldi e molto molto umidi, è una pianta che richiede un alto tasso di umidità in coltivazione, pianta di difficile coltivazione, possiamo provare a coltivare in appartamento riservando per lei un angolino tutto speciale in cui c'è un buon calore e una buona umidità e una buona illuminazione, ma della sua coltivazione ne parleremo poi dopo. Allora, io l'oia imbricata appartiene alla famiglia della pocinacee, come la oia carnosa, classica pianta acquistabile nei vivai, la oia curry, oia obovata, la oia bella, tutte piante di grandi dimensioni, tranne la oia bella che mi sembra che sia un po' più piccola, più piccolina. La oia carnosa, obovata e curry sono piante che possano arrivare anche con i loro fusti anche a 6 metri di altezza, quindi bisogna farle attorcigliare a dei supporti. La oia imbricata invece ha un'altezza massima di 3 metri e quindi è possibile, sperando in un miracolo, visto la sua difficoltà di coltivazione, farla crescere al massimo del suo sviluppo, facendola rapicare in un supporto. Io come supporto ci ho pensato in queste 3 settimane in cui mi sono chiesto come posso coltivarla al meglio, che esperimento posso fare, visto che a me piace sperimentare molto. Mi è venuto in mente questo classico bastone di sostegno delle piante d'appartamento per far attaccare queste piante a grande sviluppo in modo che siano dritte, come la monstera ad esempio, fatte con questo tubo di plastica ricoperto dalla fibra di cocco. Ho pensato però che questo tubo con la fibra di cocco non era proprio un'idea geniale, perché la fibra di cocco se non la bagniamo poi tende ad asciugare abbastanza in fretta. Sotto c'è un tubo di plastica che non trattiene nessuna umidità e quindi tutto si asciuga abbastanza in fretta. Allora io stamattina che cosa ho fatto? Ho preso questo tubo e l'ho ricoperto di sfagno facendo giro, giri su giri su giri con questo filo metallico per trattenere tutto lo sfagno pressato, inumidito e l'ho inserito per tutto il supporto. Questo è un supporto alto 1,50 m, vi faccio vedere. L'ho legato su perché altrimenti qua mi si ribalta tutto perché è vero che sta in piedi da solo ma è abbastanza instabile. Vedete che questo è un supporto molto lungo, 1,50 m, l'ho avvolto con lo sfagno e in più l'ho legato con chilometri e chilometri di filo con quest'anima metallica in modo da creare un qualcosa che sia adatto allo sviluppo della oia imbricata. L'idea di questo supporto è soltanto un'idea di sperimentazione per me, nel senso voglio sperimentare la coltivazione di questa pianta con questa idea. Io non mi sento di consigliarla a voi che guardate questo video perché non è la seconda, terza, quarta volta che io coltivo questa pianta con successo, con questo supporto. È la prima volta e quindi non vorrei consigliare un qualcosa che poi non funziona. Questo è un esperimento, mi prenderò io la responsabilità della crescita di questa pianta. Se dovesse mai morire perché tutto questo non va bene, pazienza. Proverò poi magari a coltivarla in maniera diversa. Però quello che io ci tenevo è dirvi appunto di non imitare al momento questo tipo di allestimento perché direi piuttosto di lasciar passare un po' di mesi e vedere un po' quello che succede. Se poi a fine estate è partita la pianta con il suo sviluppo e funziona, allora magari posso sentirmi di consigliarvelo. Quindi attenzione, piuttosto se abbiamo un po' di dubbi, abbiamo paura di perdere la nostra oia imbricata, facciamo attenzione, piuttosto la teniamo nel vaso in cui l'abbiamo ricevuta dopo l'acquisto. Se ha questo gancio per appenderla, la teniamo appesa con le sue foglie che scendono giù e la coltiviamo con una semplice oia. Ci perdiamo però il suo sviluppo di foglie che si arrampicano sul supporto. Però pian piano magari arriviamo poi ad un risultato, ad un modo per poterla coltivare bene questa pianta. Purtroppo viviamo in un posto in cui d'inverno bisogna ricoverare le piante all'interno della casa e questo è un grande trauma per le piante tropicali perché si trovano in una condizione diversa, più secca, a volte anche molto più calda e con un'illuminazione che non è assolutamente adatta e per piante difficili come la oia imbricata questo può essere un qualcosa di mortale perché è una pianta che la si perde molto facilmente con degli sbagli di coltivazione. Allora adesso vi ho fatto vedere il supporto creato stamattina, io l'ho presa, l'ho legata per farla andare in su con i suoi fusti, l'ho legata intorno al supporto per cercare di vedere un po' se si svilupperà adesso in altezza con le sue foglie creando delle nuove foglie. Quando ho ricevuto questa pianta io ci sono rimasto un pochettino male, ma no, deluso, ma nel senso che mi aspettavo che questa pianta fosse coltivata in maniera diversa. Ho ricevuto questo vasetto con la pianta all'interno che pendeva giù e togliendola da lì per metterla all'interno di questo vaso mi sono accorto che in realtà non avevo una pianta ben radicata nel suo vasetto, quindi non era coltivata già da tanto tempo. Erano cinque talee di cui tre avevano iniziato a radicare e due invece dovevano ancora radicare. Io le ho inserite tutte all'interno e quindi speriamo che il tutto possa funzionare. Quindi ci sono rimasto un po' male perché ho detto cavolo è una pianta molto difficile da coltivare, se mi arriva già così che deve ancora radicare si complica il tutto in maniera indescrivibile. Se fosse stata una pianta ben radicata bastava soltanto inserirla qua dentro nel suo terriccio e lei comunque con un buon apparato radicale sarebbe partita, l'unico stress sarebbe stato quello di ripartire con lo sviluppo delle foglie, invece se deve crearsi le radici e poi dopo le foglie, ebbene in questo caso tutto diventa più difficile. Comunque incrocio le dita e vediamo come va. La oia imbricata è una pianta che si sviluppa sì ma non in maniera particolarmente velocissima. La oia carnosa ad esempio quando prende lo sviluppo che comincia a partire e non la ferma più nessuno. Lei invece è un po' più lenta nel suo sviluppo e raggiunge i tre metri di altezza massimo. Crea questi fiori sempre ad ombrello di forma semisferica, giallini, molto molto belli. Tutti i fiori delle oia sono molto molto belli con questi profumi molto interessanti. Anche lei è una pianta chiamata fiori di cera, la pianta dei fiori di cera appartiene alla famiglia delle apocinacee come tutte le altre oia che possiamo trovare in commercio. Qualcuna più facile e qualcuna molto più difficile. Bene dopo aver spiegato il supporto di coltivazione io direi di parlare della sua coltivazione perché è una pianta che va coltivata in un certo modo. Adesso questo per me è una prova, vediamo un po' se ci riuscirò. Un esperimento. Allora, l'oia imbricata come la medinilla magnifica, un'altra pianta d'appartamento venduta nei vivai, arriva dalle Filippine. Io ho notato, e anche molte di Schidia arrivano dalle Filippine sulla Oesi, quei posti. Ho notato che le piante che arrivano da questi posti Filippine sono molto difficili spesso da coltivare. La medinilla magnifica è una pianta stupenda, la si può vedere in vendita con queste foglie molto larghe, coriace, questi fiori, questo sviluppo floreale rosa che è uno spettacolo alla vista, ma difficile da coltivare. E lei, la imbricata che arriva dallo stesso posto, è anche molto difficile. Come anche difficile è la Dischidia pectenoides, un'altra pianta che arriva molto vicina alle oia, che arriva sempre da questi posti e che anche lei richiede un certo tipo di coltivazione, altrimenti non si sviluppa bene. La medinilla magnifica, io l'ho coltivata già due o tre volte, ma l'ho sempre persa poi alla fine, perché non avendo calore e umidità come la vuole lei, le sue foglie sono sempre di sviluppo molto più piccolo, non fiorisce più e alla fine la si perde. Spero che non succeda qualcosa con questa bellissima oia imbricata. Per coltivare la oia imbricata, allora, possiamo cominciare a parlare di quello che è una nota molto importante, di un elemento molto importante nella coltivazione di questo tipo di oia, che è l'illuminazione. L'ho imbricata vuole un'illuminazione che sia leggermente soleggiata al mattino, se c'è la possibilità, altrimenti quest'ombra diffusa, luminosa, le vive in ambienti in cui sta nascosta sotto le fronde degli alberi, ma ogni tanto qualche piccolo raggio di sole per un po' di tempo riesce a inondarla un pochettino di luce, per poi sparire e tornare a inondarla un pochettino di luce. Noi possiamo mettere in una posizione ombrosa, luminosissima, tipo un'esposizione adatta per coltivare le begonie, ad esempio, può essere ottima per la oia imbricata. Se poi prende un pochettino di raggi di sole al mattino o alla sera sul tardi, va benissimo, anzi può essere d'aiuto a questa pianta. Quindi illuminazione non sole diretto tutto il giorno. Questa qui è una pianta che può anche apprezzare un po' di sole diretto durante il giorno, anche nelle ore molto calde, però il sole diretto caldo, ad esempio in estate, fa asciugare il tutto. Questa è una pianta invece che vuole sempre un pochettino di umidità. Mi sono distratto perché è arrivato, non posso girare la telecamera, un codibugno bellissimo. Sono questi uccellini, quindi intanto arrivano nel mio giardino, soprattutto in primavera. Spettacolare, mi spiace non farvelo vedere perché appena mi alzerò lui scappa via, quindi è inutile spostare la telecamerina. Solitamente arrivano in gruppo di 5, 6, 7 uccellini tutti insieme, bellissimi. Comunque, a parte questo, questi sono gli spettacoli belli di quando si ha un giardino perché arrivano intanto qualche animaletto a farsi vedere e a salutare e che io saluto. Abbiamo parlato di illuminazione, quindi un'ombra luminosa e possibilmente per una questione di coltivazione artificiale in casa, non sole diretto tutto il giorno, quindi teniamola un pochettino protetta dai raggi del sole molto forti. Le bagnature. Le bagnature è un altro problema per la oia imbricata perché la oia imbricata, come molte altre oia, poi ci sono quelle che sopportano un po' più di secco, vogliono sempre un terriccio che sia tra il secco e l'umido, che ci sia un pochettino di umidità all'interno costante ma che non sia mai secco per tanti giorni e neanche troppo umido per tanti giorni, altrimenti l'apparato radicale tende a marcire e noi ci perdiamo la nostra pianta. Quindi come possiamo effettuare le bagnature? Le bagnature le possiamo effettuare in maniera abbondante, una buona bagnatura, una bella dose di acqua e poi lasciamo praticamente quasi asciugare il terriccio. Inserendo il dito all'interno del terreno sentiamo se non ci rimane più quasi nulla attaccato al dito, sentiamo che c'è un po' di secco, allora lì probabilmente è ora di cominciare a bagnare. In quel caso lì aspettiamo ancora un giorno, due e bagniamo. Questo è un discorso che vale anche per le orchidee. Le orchidee quando si bagnano e non sappiamo bene se possiamo bagnarlo o meno, se l'abbiamo bagnato poco tempo fa eccetera, se abbiamo dei dubbi, piuttosto aspettiamo due o tre giorni e poi bagniamo. Questo salva la vita a tante orchidee. Stessa cosa per le oia. Attenzione però perché se la oia carnosa può sopportare anche un buon grado di siccità, la oia imbrica imbricata invece nel terriccio vuole sempre una leggera umidità, non vuole assolutamente rimanere in un ambiente secco per un po' di giorni. Questo può essere mortale per la oia imbricata. Quindi bagnature naturalmente a temperatura ambiente o leggermente tiepida con acqua piovana se possiamo, altrimenti può andar bene un'acqua del rubinetto. Però è vero, non si può fare altrimenti tante volte. Piuttosto usiamo l'acqua del rubinetto, la lasciamo decantare un pochettino, magari per un giorno e poi possiamo usare quell'acqua lì. L'ideale sarebbe veramente la spettacolare acqua piovana perché io noto che l'acqua piovana quando io la uso per bagnare le piante, ad esempio io lo vedo sullo sfagno, su questo muschio, quando bagno lo sfagno con l'acqua del rubinetto tende a diventare un po' più scuro. Quando lo bagno con l'acqua piovana o si fa bagnare dalla pioggia, diventa di un verde acido bellissimo e quindi questo mi fa capire la differenza delle due acque. Acqua tiepida, una bella bagnatura alla nostra oia e lei sarà pronta per crescere bene all'interno del suo vaso. Il terriccio per la oia imbricata è un terriccio molto particolare, allora quando l'ho acquistata, quando mi è arrivata a casa era in un terreno assolutamente asfittico, sembrava quasi una palla di torba compressa in cui le radici non trovano un po' di aria all'interno, assolutamente non poroso. Le oia vogliono dei terricci che sono porosi, che sono vaporosi, che sono morbidi, che non si riesce a compattarli. Questo è un terriccio adatto, umidi, un terriccio adatto per le oia. Io ho usato, adesso vado un pochettino a pugni come mezzo di misura, ho usato un pugno di bark, corteccia di pino, un pugno, un pugno e mezzo di bark, di corteccia di pino a grandezza media, non troppo grande, neanche piccolissimo, grandezza media, di bark, ci sono anche all'interno poi dei piccoli pezzi che sono ad esempio questi, ho usato due bei pugni di perlite, ho usato due pugni di sfagno, un pochettino di torba, acida di sfagno e un pugno di terriccio universale per piante d'appartamento, un pugno e mezzo di questo terriccio per crearmi un qualcosa che potesse riempire tutto il vaso. Ho mescolato per bene tutto quanto e ho aggiunto ancora all'interno un pochettino di aghi di pino per aumentare l'acidità, è vero che c'è la torba ma gli aghi di pino garantiscono una buona acidità al terriccio. Le oia sono piante che gradiscono molto, almeno l'oia imbricata gradisce una leggera acidità all'interno del terriccio. Ho mescolato per bene il tutto e ho inserito all'interno del vaso il terriccio e poi ho messo la pianta. Questo terriccio ve lo faccio vedere, potete vedere che è un terriccio che non si riesce a compattare, sembra quasi spugnoso e questo è un terriccio adatto per le oia perché lascia passare l'acqua, si bagna e lascia passare anche l'aria, quindi rimane vaporoso. Le radici di queste piante non vogliono un terriccio asfittico, quindi creiamo qualcosa di vaporoso che non si riesce a compattare con la perlite, possiamo utilizzare anche la sabbia silicea, possiamo utilizzare anche l'argilla espansa, la pietra pomice, ci sono un sacco di cose che possiamo inserire all'interno di un supporto per le oia per renderlo il più drenato possibile ma che riesca a trattenere anche abbastanza l'umidità. Quindi come terriccio l'abbiamo detto, parliamo del vaso, il vaso per l'oia imbricata ma per tutte le oia deve essere sempre della misura giusta, non teniamo mai un'oia in un vaso particolarmente enorme perché più è grande il vaso, più c'è all'interno terriccio e meno si asciuga, cioè si asciuga in minor tempo, rimane troppo bagnato per tanto tempo e questo può essere un pericolo per le radici. Quindi un vasetto un po' tipo questo, adesso vedete che la pianta è un po' piccolina per questo vaso ma io spero che riesca a diventare di 3 metri di altezza e lascerò sempre questo vaso, diciamo un vaso adatto allo sviluppo della pianta e che non sia mai eccessivamente grande perché deve cercare di asciugare il prima possibile e purtroppo quando compriamo le oia uno dei problemi è proprio quello che sono piante che vanno seguite e quindi dobbiamo sempre preoccuparci se sono umide, se sono secche, se sono troppo bagnate, solo così possiamo coltivarle al meglio. Quando acquistiamo una pianta è un po' una responsabilità che noi prendiamo verso la pianta stessa e quindi dobbiamo dargli anche dell'amore. L'amore cos'è? L'amore è seguirla, guardarla, osservarla, ammirarla nella sua bellezza e cercare di farla star bene all'interno del suo vasetto, questa casa che gli abbiamo dato, questa nuova casa che gli abbiamo dato. Abbiamo parlato della luce, delle bagnature, del vaso, del terriccio, le temperature, la oia imbricata è una pianta di clima caldo, non vuole temperature ad esempio costanti sui 10 gradi, si rischia di rallentare tantissimo la crescita, è già una pianta che non è velocissima nella sua crescita e in più si rischia di farla morire. Quindi teniamola sempre con temperature che vanno, lei sopporta temperature dai, l'ideale sarebbe dai 20 gradi ai 25-30 gradi, sempre con un alto tasso di umidità, questo sarebbe l'ottimo per questa pianta. Naturalmente in coltivazione non si può, se non abbiamo una serra riscaldata non possiamo dargli questo. E quindi cerchiamo comunque di rimanere in un range di temperatura, diciamo, tra i 15 gradi e i 20 gradi. Magari in appartamento la stanza è scaldata per bene, ci sono 20 gradi, più è calda la stanza, più è secco il riscaldamento, più questa pianta va nebulizzata anche con un pochettino di spruzzature. E bagnata poi se vediamo che il terriccio tende ad asciugare particolarmente, allora ha bisogno di bagnature. Mi sono dimenticato prima di dirvi, per le bagnature, diciamo che in un vaso di questo tipo, una buona bagnatura, poi posso ribagnare magari la settimana dopo, quindi una volta alla settimana, ma l'importante è sempre col dito controllare l'umidità del terriccio. Evitiamo di bagnare e lasciare la pianta fradice bagnata per troppo tempo, il terriccio deve assolutamente arrivare quasi ad un livello di asciugatura e poi possiamo intervenire. La moltiplicazione dell'oio embricato invece è un qualcosa di un po' più delicato rispetto agli altri tipi di oia. L'oia carnosa si riproduce sia per seme, ad esempio, sia per talea, sia per foglia da far radicare. Qui diventa tutto un pochettino più difficile perché le foglie di questa pianta sono diverse da quelle di un'oia normale. Le oia normali, sui loro fusti, sviluppano queste due foglie opposte, carnose, in tante specie, lei invece nel fusto tra un nodo, in ogni nodo sviluppa questa foglia singola e che poi tende anche a piegarsi su se stessa se non trova un appiglio per poter si arrampicare. E quindi è un po' più difficile creare un qualcosa per poter fare una talea di foglia. Ma io ci ho provato a casa, ho preso un segmento di fusto con una foglia, ho inserito del muschio qua dentro, ho chiuso, ho inserito poi la foglia quasi per metà nello sfagno bagnato e vediamo se riuscirò a fare una nuova piantina di questa stupenda oia. Comunque le oia si riproducono appunto per seme, per talea, per talea di foglia e lei possiamo moltiplicarla per talea. Io quando l'ho ricevuta aveva queste talee all'interno ancora da radicare, due non avevano ancora radicato, inserite semplicemente nel terriccio e speriamo dovrebbero fare comunque le radici. Per poter fare le radici alle oia, io parlo ad esempio dell'oia carnosa, va bene anche l'acqua, in un bicchiere con l'acqua la pianta emette le sue radici. Lei magari funziona anche, con lei magari funziona anche questo metodo. E' da provare. La pianta di oia imbricata tenderà poi ad arrampicarsi nel supporto e tante volte viene anche coltivata senza vaso. Praticamente se è in una situazione di sera riscaldata con un'altissima umidità la si può coltivare anche senza vaso, semplicemente fatta arrampicare sul supporto. Lei trova il suo nutrimento, la si può concimare, ad esempio con delle nebulizzazioni, in modo da dargli un pochettino di nutrimento. Le oia sono piante che non vogliono essere particolarmente concimate. E' meglio non esagerare mai troppo con il concimo e con le oia. Io ad esempio l'oia carnosa che ho a casa, che si è sviluppata tantissimo e fiorisce tutti gli anni, la concimo sempre, quando bagno le orchidee poi le concimo e con quello che avanzo del concime delle orchidee, diluisco ancora due o tre volte quel concime lì e poi do una concimazione alle mie oia. Perché sono piante che non apprezzano essere concimate troppo spesso con dei concimi molto forti. Quindi piuttosto usiamo una quantità diluita al massimo, somministrandola ogni tre, quattro bagnature, magari una volta al mese, possiamo somministrare un pochettino di concime alle nostre oia, ma senza esagerare. Volendo possiamo inserire all'interno del composto, cosa che io non ho fatto qui, e infatti mi spiace, magari poi provvedo, qualche pallina di osmocote in modo da non eseguire concimazione. Quella pallina nel tempo si disgrega e fornisce un po' di nutrimento alle radici. radici che per l'oia imbricata e anche altri tipi di oia non sono mai particolarmente abbondanti, ma molto delicate. Per quello che riguarda il supporto, se vogliamo invece farla arrampicare, sicuramente il supporto dovrà essere, se inserite in una stanza, se inseriamo la pianta in una stanza riscaldata, dovrà essere nebulizzato spesso, perché lo sfagno deve rimanere umido e perché i suoi fusti, con tantissime piccole radici, hanno bisogno di attaccarsi e assorbire umidità e nutrimento dal supporto. Quindi non lasciamo mai seccare il supporto di coltivazione della oia imbricata. Sempre, magari anche una volta al giorno, una nebulizzata leggera per mantenere una certa umidità anche dello sfagno. La pianta apprezza anche essere nebulizzata, quindi possiamo anche nebulizzare un pochettino la pianta. Facciamo attenzione a una cosa molto importante. Quando creiamo un supporto per la oia imbricata, una cosa molto importante, se c'è dello sfagno, come in questo caso, sarebbe quello di non coltivare, di non inserire il palo per farla arrampicare all'interno del vaso stesso della oia imbricata, farlo uscire praticamente dall'interno del vaso. Perché quando noi andiamo a vaporizzare spesso lo sfagno, quest'acqua pian piano tenderà a scendere un po' se è stato bagnato troppo e inumidire sempre troppo il terriccio, andrà a bagnare il terriccio. Io per quello che ho fatto questa struttura, sotto metterò un sottovaso in modo che l'acqua che sgronda da qui non va a bagnarmi la oia, ma va nel sottovaso e il vaso con la oia imbricata sarà leggermente sollevato da quel sottovaso in modo da non pescare ulteriore acqua, perché l'acqua all'interno di questo vaso devo controllarla io. Qui può sgrondare, può scendere giù acqua perché comunque rimarrà molto umido, infatti qui vedete che si è già creato un pochettino una pozzetta d'acqua. Ma una cosa molto importante è non creare un qualcosa che sgocciolando finisce poi a inumidire sempre il terriccio della oia, altrimenti andiamo incontro ad una marcescenza. Questa è molto molto importante, anche se inseriamo una tavoletta di legno per far attaccare qualche foglia, piuttosto la mettiamo al di fuori del vaso, in modo che qualunque goccia d'acqua non vada ad inumidire sempre troppo il terriccio della pianta. Bene, si conclude qui questo video dedicato all'oia imbricata, una pianta fantastica, una pianta che io adoro, veramente molto bella, ricercata, non è facile trovarla in commercio, diventa subito, si esaurisce subito appena la mettono in commercio perché va a ruba, abbastanza costosa, questa è una pianta che mi ha costata più o meno sui 30 euro, ma ci sono piante che vengono vendute anche a 90, 100, 150 euro, perché è una pianta un po' rara in coltivazione ed è un piccolo gioiello per quello che riguarda una coltivazione di una collezione di oia. Chi ha in casa un'oia imbricata e la coltiva bene, solitamente è un buon coltivatore di oia. Spero di diventarlo anch'io, questa pianta mi darà le risposte di cui ho bisogno per capire se questo allestimento va bene. E dai, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Se avete delle domande da farmi, scrivetemi nei commenti, così ne parliamo insieme magari su tutto l'allestimento, sulla pianta, magari se mi sono dimenticato di dire un qualcosa riguardo alla sua coltivazione, possiamo parlarne nei commenti. Ricordo anche a chi non si è iscritto di iscriversi al canale Appuntamento in Giardino, azionare la campanella e niente. Vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao. Adesso porto a casa l'oia imbricata perché il sole tra un po' va dietro la collina. oggi si stava abbastanza bene fuori ma sta arrivando un freddo e questa non è una pianta freddolosa, le vuole un po' di calore e quindi la porterò nel suo posticino che l'ho riservato a casa mia, fino alla primavera. Ciao a tutte e grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti.